La rocca medievale imbragata e messa in sicurezza da appena un mese svetta sul villaggio di casette di Borgo 1, un pezzo della nuova arcuata del Tronto. A due anni dal terremoto, il futuro del borgo dimezzato dal sisma si aggrappa ancora alle sue radici e prova a resistere allo spopolamento. Su 1200 abitanti ne sono rientrati appena 550, meno della metà, quasi tutti sistemati nelle 201 casette distribuite nei sette villaggi di legno che sorgono a due passi dalle macerie. Un intero paese raso al suolo, ridotto ad un cumulo di macerie. A due anni dal sisma si presenta ancora così Pescara del Tronto. 130.000 le tonnellate di macerie ancora accattastate e 200.000 quelle invece già rimosse. Un terzo del lavoro qui è ancora da fare. Ci vorrà almeno un anno perché tutte le sette frazioni vengano liberate, ma forse anche di più perché sulle macerie piovono ancora macerie. La situazione qui è in continua evoluzione, i crolli si susseguono di giorno in giorno. Qui siamo ad arcuata capoluogo in piena zona rossa e pensate, quell'edificio lassù è venuto giù proprio la settimana scorsa. Qui è ancora emergenza e la ricostruzione ferma il palo. Ci sono ancora le messe in sicurezza da completare e i pochi cantieri avviati riguardano le abitazioni con danni lievi. Ancora non è stata individuata nemmeno l'area su cui sorgerà la nuova Pescara del Tronto, che dovrà traslocare il costone su cui sorgeva, che scivola a valle. Per le altre frazioni invece le alie ci sono, ma il comune chiede alla regione di fare in fretta. Abbiamo concordato, perché io non ho i mezzi, questi sette paesi perimetrati, di trovare i tecnici. Io gli ho detto fatelo voi un bando perché non ho il personale che mi fa i bandi nazionali per la ricostruzione di questi centri qua. I tecnici mi devono dire come ricostruire, che materiale ad operare, questo è il punto. Quindi noi stiamo ancora all'anno zero.